Quello che vedete davanti a noi è la riproduzione del tonno più grande che si è mai stato battuto all'asta qua nel mercato più grande del mondo di Tokyo. Nell'86. E parliamo di un peso di 496 kg, una lunghezza di 2,88 m e Girt penso che... cosa sarà? La larghezza. No, larghezza o altezza? No, no, l'altezza. 2,36 m. Il primo esemplare è di squalo tonno. Ma quanto eri grande, oh. Oh ragazzi, 500 kg di pesce. Di tonno. Qua c'è la sashimi per tutta Torino. Va bene, continuiamo il nostro giro. Andiamo a vedere la sala delle aste. Grazie di tutte queste informazioni. Una fintona. Quindi questo è pure più vecchio di me, io sono andato all'87.